Buongiorno a tutti, sono responsabile del Dipartimento Media e Telecomunicazioni di Fratelli d'Italia. Ringrazio Giorgia Meloni e Francesco Lollobrisida, Presidente del Partito e Presidente del Gruppo Parlamentare alla Camera di Fratelli d'Italia, perché conferiscono al tema che tratteremo e a questo evento una importanza evidentemente di natura anche politica. Penso, ma sicuramente sarà l'On. Lollobrisida a soffermarsi su questo, che il Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia sia in assoluto il gruppo più prolifico e anche risolutore rispetto ai temi delle telecomunicazioni, delle piattaforme, delle nuove tecnologie, emozioni, emendamenti, proposte di legge, siamo estremamente attivi perché siamo convinti che non ci sia futuro senza digitalizzazione o comunque che sia un futuro molto difficile e il lockdown ce l'ha insegnato. In più siamo convinti che economicamente la digitalizzazione sia una cosa importante, non solo perché è matematicamente provato che investire nella digitalizzazione, nella tecnologia comporta anche un aumento del prodotto interno lordo, ma comporta anche un aumento dell'occupazione, soprattutto giovanile, perché noi abbiamo dei giovani splendidamente formati che poi non riescono a trovare lavoro proprio per queste carenze. Io presenterò gli otto punti con i quali noi impegniamo il Governo ad assumere ovviamente delle condotte delle misure, poi naturalmente tutti gli aspetti macro-politici, tattico-strategici saranno trattati da Giorgia Meloni e da Francesco Lollobrigida. Per cui è stata distribuita una cartellina con il testo della mozione, agli amici che ci seguono da remoto possono accedere ovviamente al sito della Camera perché è depositato e possono anche scaricarlo. Il primo punto, noi chiediamo che il Governo lavori perché ci sia un controllo pubblico della rete unica per le telecomunicazioni e in effetti non è una novità. Purtroppo riteniamo che il Governo sia abbastanza confuso in materia, nel senso che ha promosso, come ben sapete, la costituzione di Assess Co, che è una società ovviamente che fa capo a TIM e a Cassa Depositi e Prestiti, è stato firmato anche un memorandum of understanding molto importante. In questo memorandum che nessuno conosce peraltro, TIM, cioè privati, stranieri, hanno il 51%, mentre a Cassa Depositi e Prestiti vengono conferiti pochi peraltro poteri sulla Governo. governance. Ovviamente noi riteniamo che la rete debba essere pubblica e quindi su questo abbiamo acceso un focus. Il secondo punto, noi invitiamo il Governo ad adoperarsi per garantire che la società della rete unica non sia verticalmente integrata. Anche questa è una battaglia che noi conduciamo in coerenza con le posizioni assunte da Fratelli d'Italia negli ultimi anni, in quanto per primi abbiamo conferito alla banda larga e alla rete unica delle telecomunicazioni dei criteri, dei principi, dei requisiti. Noi la vogliamo unica, pubblica e non verticalmente integrata. Non verticalmente integrata perché riteniamo che ci debba essere un proprietario della rete e poi ci debbano essere degli operatori che alla fine la competizione la svolgono sui servizi. E questo garantisce ovviamente pari dignità e quando si garantisce pari dignità la competitività aumenta e quindi aumenta anche l'innovazione. Peraltro, sempre sul punto 2, c'è un pacchetto telecom che è un pacchetto europeo che è stato approvato e quindi è in vigore dal dicembre del 2018 che con chiarezza esorta, per usare un eufemismo, gli stati sovrani, gli stati membri a utilizzare il modello V6 only, quindi il non verticalmente integrato proprio per questi motivi. Citano la competizione e quindi l'innovazione. Il punto 3, il perimetro della rete. Anche qui noi dobbiamo capirci ed essere estremamente chiari su che cosa intenda il governo per perimetro della rete perché noi sappiamo cosa intendiamo per perimetro della rete. Il perimetro che noi comprendiamo, che noi prevediamo, comprende la rete primaria e ovviamente la rete secondaria, questo significa le centrali, i collegamenti fino all'utente finale e poi la rete secondaria. Ora abbiamo letto delle stupefacenti dichiarazioni da parte di autorevoli prestigiosi esponenti del governo che invece parlano di rete, delle tecnologie, dei servizi, cioè un minestrone straordinario dove intendono inserire evidentemente anche il cloud e poi il 5G. Io ricordo che l'incomment team, il cloud, lo fa gestire a Google, che non è propriamente una società con sede a frascati o a velletri, ma sono americani insomma, è un dato fondamentale. E in più ricordo che il 5G si basa, ne parlavo poco fa col presidente Lollo Brigida, sui dati. I dati consentono l'internet delle cose evidentemente, lo scambio veloce, la scarsa latenza, anche l'assoluta mancanza di latenza. E noi sui dati abbiamo fatto una battaglia per quanto concerne ovviamente la riservatezza. Il punto 4. Il punto 4, come sapete il governo ha promosso su richiesta del ministro Patuanelli una prima serie di incontri che è in corso proprio in queste ore, però il governo incontra dei soggetti industriali, perché gli operatori sono soggetti industriali e i soggetti industriali su cosa fanno riferimento? Fanno riferimento sui numeri, sulle economie e soprattutto sui piani industriali. Chi deve mettere a disposizione un piano industriale? Ovviamente chi è il detentore della rete, il proprietario della rete, ma il piano industriale non esiste. L'abbiamo chiesto con diverse interrogazioni, diversi atti di sindacati ispettivo, abbiamo sfidato il governo anche in aula, il piano industriale della rete unica non esiste. E quindi noi siamo preoccupati perché vogliamo sapere quale sia il modello di business, perché sapete una cosa, se le risorse sono dei privati e viva il mercato, i privati si mettono d'accordo. Però qui le risorse sono maggiormente pubbliche e quindi il Parlamento e quindi l'opinione pubblica ha il diritto di sapere quello che sotto legida di una ristretta oligarchia sta accadendo in alcuni uffici. Il punto 5. Noi vogliamo far capire, perché noi l'abbiamo ben compreso, cosa in materia di telecomunicazioni sia il passato, cosa sia il presente e cosa sia il futuro. Il presente è una situazione ibrida che mette insieme il doppino, la rete in rame per essere chiaro, l'ultimo miglio, quello dell'incamment, con la fibra. Il passato era solo il rame, ma il futuro è solo la fibra. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto al governo di incentivare lo switch off del doppino, del rame, con tutto rispetto per il metallo nobile che ha accompagnato l'evoluzione dell'uomo in tanti secoli, ma ormai è veramente il passato. Il futuro è ovviamente la fibra. Siamo preoccupati perché il piano bull procede a rilento, va bene nelle aree bianche, quelle a economia di mercato, in quelle bianchissime, va molto meno bene in quelle grigie, che sono un po' quelle montane, quelle periferiche, ma ci sono 12 milioni di italiani. In quelle aree c'è un terzo delle nostre imprese che desiderano essere cablati, perché ovviamente il cablaggio compete da loro competitività, offre loro competitività. Poi in montagna da Livigno al Gran Sasso è chiaro che andremo con l'FWA, questo è chiaro, con il wireless, questo è abbastanza evidente. I punti 6 e 7. Noi abbiamo chiesto che collegati siano circa 25 milioni di immobili alla banda larga, alla fibra. Guardate, è un numero sul quale abbiamo ragionato, però noi ci siamo letti con molta attenzione anche il piano bull, che ne prevede 20 milioni per il 2023, quindi abbiamo aggiunto un'esortazione, insomma un incentivo per il governo. Però questo è un obiettivo importante. Il maggior numero di immobili, di unità immobiliare, deve essere dotata naturalmente di fibra. Ho parlato prima del tavolo e concludo. Il Parlamento, proprio sulla mozione di luglio di quest'anno, presentata da Fratelli d'Italia, ha ritenuto di dover convocare un tavolo. Come vi ho detto, c'è un tavolo attivato dal Ministro Patuanelli, è un tavolo a video call, mezz'ora per ogni operatore, dove, attenzione, non spiegano il piano industriale, non spiegano le idee del governo sulla tecnologia da utilizzare, sulla rete unica e su altro, ma chiedono ulteriori contributi di idee. Allora la nostra idea è, ma la svilupperanno molto meglio Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigi, da sé, questo deve essere un passo propedeutico a quello che è il nostro progetto. C'è un tavolo attorno al quale siedono gli operatori, ma soprattutto anche i parlamentari, perché il Parlamento deve essere ovviamente coinvolto in questa scelta, allora va bene, altrimenti è chiaro che le lingue malevole cominciano ad agitarsi, perché qualcuno pensa che tutta questa fretta sia dovuta al fatto che c'è un'azienda che deve risolvere il problema degli esuberi e del proprio debito. Noi invece riteniamo che questa fretta sia dovuta esclusivamente al lockdown, ma i passaggi devono essere estremamente trasparenti e concludo sulla questione dei progetti, perché i progetti sulla digitalizzazione e sul green non sono ancora stati presentati e ha ragione Giorgia Meloni quando pubblicamente sfida il governo a presentarli, perché se sono stati presentati dei progetti, con l'Europa non si scherza, ci devono essere dei numeri di protocollo, ci devono essere degli uffici di riferimento, non possiamo accontentarci delle dichiarazioni di Amendola che dice sono in corso delle interlocuzioni, perché il termine interlocuzione è vacuo, il termine interlocuzione è veramente vuoto, quindi secondo noi non esistono, poi per carità possiamo anche sbagliare, è molto difficile, ma possiamo sbagliare e con umiltà e con orgoglio patriottico riconosceremo il nostro errore, se va nella direzione evidentemente del nostro Paese. Questi sono gli otto punti, c'è poi una relazione che è molto più politica e tattica, della quale ovviamente parleranno il Presidente Lolo Brigida e la Presidente Meloni. Io 30 secondi, anche per ragioni di tempo, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, passerò praticamente subito la parola al Presidente Meloni che dopo l'intervento puntuale di Alessio Butti che ha dimostrato come responsabile del Dipartimento, ma anche nei lavori parlamentari, di saper conciliare quella che è una necessità dei nostri tempi, quello di adeguarci alle tecnologie, rendere sempre più competitiva la nostra nazione, ma anche proteggere quelli che sono gli interessi nazionali che sono intimamente legati alla materia che stiamo trattando. Alessio Butti ha definito puntualmente quello che richiediamo in questa mozione presentata a prima firma del Presidente Giorgio Meloni perché il partito scende in campo con tutta la sua complessità, con tutta la sua forza a tutela e a difesa del diritto alla garanzia per questa nostra nazione di vedere tutelate le istanze che ha puntualizzato Alessio Butti in questo intervento, ma ricordava lui stesso nelle tantissime azioni parlamentari, interrogazioni, emendamenti, ordine del giorno, mozioni, che hanno visto il nostro gruppo, che non è numericamente nel Parlamento particolarmente ampio, ma che vede su questo tema riservarci un ruolo di protagonismo, per gran parte proprio grazie al lavoro di Alessio Butti e al sostegno che il Presidente Giorgio Meloni, che abbiamo la fortuna di avere all'interno del nostro gruppo parlamentare, è riuscito a rendere sempre più evidente. La sfida di questo tempo è la sfida di riuscire ad adeguare le tecnologie, però evitare che il pregiudizio prevalga. Per evitare che il pregiudizio prevalga rispetto alle tecnologie, purtroppo ne parlavamo proprio prima con Alessio, spesso le fake news su alcuni argomenti rallentano e rendono meno competitiva la nazione, però è evidente che alcuni pregiudizi si possono essere sulla sicurezza, per esempio, sui dati personali. E allora lo Stato deve intervenire, deve garantire i cittadini rispetto a questo processo. E dove avviene la costruzione di queste garanzie? Nel Parlamento, nel luogo della democrazia. Ed è per questo che noi a livello parlamentare richiamiamo un ampio dibattito, una responsabilizzazione delle forze politiche, in modo anche trasversale, perché i diritti e gli strumenti per garantirli sono patrimonio collettivo e sono patrimonio di tutti nella sfida di adeguare i principi costituzionali a queste nuove esigenze che vengono in essere e che allarmano un po' tutti. Quindi ringrazio Alessio Butti del lavoro che ha svolto a nome e per conto del gruppo di Fratelli d'Italia e per le capacità e la puntualità con la quale declina questo lavoro. E passo direttamente la parola al Presidente Meloni che darà ovviamente la linea del nostro movimento, come Alessio prima annunciava. Allora, grazie a tutti di essere qui. Ovviamente un grazie particolare ad Alessio Butti per la precisione e anche tecnica competenza con la quale affronta da sempre queste materie, perché in materie così complesse, chiaramente da una parte serve la visione e dall'altra serve anche la competenza, la capacità tecnica di affrontare dossier che sono estremamente complessi per arrivare agli obiettivi che quella visione si prefigge. Ovviamente grazie anche al Presidente Lollo Brigida, che già la prima volta fu molto veloce, come spesso sa fare, con le sue capacità a riuscire a calendarizzare una prima mozione che fu approvata nelle sue parti fondamentali lo scorso luglio e speriamo riuscirà a fare altrettanto anche stavolta, perché il tema che noi trattiamo stamattina è un tema estremamente centrale. Ora, come tutte le materie complesse, è sempre difficile da veicolare, è sempre difficile che arrivi alle moltitudini, però da quello che noi discutiamo stamattina passa una parte significativa della sovranità, della libertà, della sicurezza degli italiani. Noi parliamo stamattina della rete delle telecomunicazioni. La rete delle telecomunicazioni nel mondo di oggi, non semplicemente nell'Italia di oggi, è praticamente la più strategica tra le infrastrutture di cui una nazione dispone. Perché oggi la rete delle telecomunicazioni non gestisce semplicemente le comunicazioni, ma detiene i dati. Quindi chi ha la rete delle comunicazioni consente che le persone comunichino, ha tutte le informazioni su quelle persone e ovviamente nel mondo di oggi e nell'Italia di oggi attraverso le comunicazioni passa anche buona parte dell'economia e dei capitali. E tutto questo si cresce con il Covid perché, come voi avete visto, nel periodo del Covid e del lockdown le comunicazioni hanno di fatto garantito l'unica forma di libertà di cui gli italiani disponevano. L'unico elemento di normalità, di continuità, garantire rapporti sociali, garantire quella parte di lavoro che siamo riusciti a fare in smart working, garantire tantissima parte del nostro mondo e della nostra quotidianità. Questo è il tema del quale noi parliamo stamattina. Ora, voi capite che nessuno Stato al mondo può consentire e può permettersi di non essere proprietario e di non controllare questa rete. Nessuno Stato al mondo può non avere in mano la rete di comunicazione con tutto quello che ne consegue, compresi i dati. Infatti, in tutte le grandi democrazie, lo Stato, Francia, Germania, lo Stato è proprietario della rete delle telecomunicazioni e è gestore della rete di telecomunicazioni. In Italia no. L'Italia è, credo, l'unico caso al mondo, ma sicuramente l'unico caso tra le grandi democrazie occidentali, in cui la rete delle telecomunicazioni è privata. Perché quando noi, con le scellerate privatizzazioni negli anni 90, abbiamo privatizzato telecom, allora pubblica, abbiamo con essa privatizzato anche la rete, cioè l'infrastruttura, il rame, quello che era stato costruito con i soldi degli italiani negli anni 60. Consegnato, ok? Con due aggravanti. In primo luogo, nel corso degli anni, telecom è stata scalata da gruppi stranieri, quindi noi abbiamo una rete in mano a privati e segnatamente a maggioranza straniera, all'interno del, diciamo, gli stranieri a maggioranza francese, e secondo, come spesso accade per i monopolisti, e che telecom è stata in questi anni ovviamente monopolista nella gestione della rete, il monopolista tende a massimizzare i profitti e non sempre investe sull'infrastruttura e sul suo ammodernamento e questo ha prodotto anche, diciamo, un gap per l'Italia sul tema dello sviluppo delle telecomunicazioni. Per cui che cosa accade? Con l'avvento della fibra ottica, lo Stato italiano correttamente decide di investire creando una sua nuova rete di accesso e lo fa con Open Fiber, cioè con una società controllata da, è controllata, posseduta da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti, quindi, diciamo, con controllo pubblico. Fa una cosa molto corretta, per la quale però vale la pena ricordare che gli italiani hanno speso molti soldi, ci ha consentito di ammodernare il nostro sistema, diciamo, di portarci, se non vado errada, dal ventinovesimo al quattordicesimo posto, nel nostro sviluppo, diciamo, tecnologico da questo punto di vista? Però abbiamo speso molti soldi degli italiani, corretto? Allora che cosa ha fatto Fratelli d'Italia? Vi ho fatto la premessa per capire il quadro, non è una materia che è complessa ma poi non è alla fine così complessa. Noi abbiamo da sempre delle idee molto chiare su quello che debba accadere, delle reti e delle infrastrutture che sono fondamentali per l'esistenza stessa di una nazione. Ve l'ho già detto. Proprietà pubblica, controllo dello Stato. La proprietà di queste reti non può che essere degli italiani. Per questo e per questo principio, per fissare questo principio e fare una piccola rivoluzione in un'Italia che rappresenta purtroppo un unicum, lo scorso 16 luglio noi abbiamo portato nell'aula di Montecitorio una mozione che stabiliva sostanzialmente questi principi. Lo Stato è il proprietario della rete. La rete e i servizi devono essere divisi, cioè il principio del cosiddetto wool sell only, significa chi detiene la rete non può anche vendere il servizio. C'è uno che detiene la rete e il servizio lo vende, lo diciamo, lo mette a disposizione di operatori che operano in regime di concorrenza che tra l'altro segnalo sommessamente essere, come ricordava correttamente il collega Butti, il principio stabilito all'Unione Europea, perché quest'Unione Europea, diciamo, delle volte sì, delle volte no. In questo caso io sono d'accordo con l'Unione Europea. L'Unione Europea dice che chi controlla la rete non vende il servizio. Quindi noi abbiamo messo questo nero su bianco sulla nostra mozione e questa mozione è stata approvata nelle sue parti fondamentali. Quindi piccola, grande rivoluzione, grazie al contributo dei patrioti di Fratelli d'Italia. Che cosa fa il Governo? Sono passati sei mesi. Che cosa sta facendo il Governo? Allora io qui devo denunciare un comportamento che considero vergognoso. Vergognoso perché è contrario a quanto indicato dal Parlamento, vergognoso perché è contrario alla difesa degli interessi nazionali italiani, che è quello che il Governo degli italiani, pagato con i soldi degli italiani, dovrebbe fare. Conte, Gualtieri, Patuanelli, perché faccio i nomi, lavorano sostanzialmente per, perché scusate ho saltato un pezzo nella mozione, del pregresso, nella nostra mozione noi prevediamo che per ottenere questo risultato serve una fusione tra le principali reti, quindi segnatamente team e open fiber, per arrivare ad un'unica rete appunto controllata dallo Stato. Avevo saltato un principio fondamentale. Questo processo è andato avanti, ma quello che oggi il Governo sta facendo è di fatto, con una serie di escamotage tra cui spingere Enel a vendere la sua parte di partecipazione in open fiber, le sue quote di open fiber, costruire una rete unica che mantenga la capacità da parte di team, quindi del soggetto privato a prevalenza francese di tutta la rete. Cioè noi vogliamo, praticamente il Governo italiano lavora per una nuova 1992, per una nuova privatizzazione di un'infrastruttura costruita con soldi degli italiani, unico caso al mondo, oltretutto controllata da stranieri. E io voglio sapere perché. Voglio sapere dove sono finite le battaglie dei 5 Stelle per la proprietà pubblica delle reti. Voglio sapere perché il Governo italiano contravviene a quello che è stato indicato dal Parlamento della Repubblica Italiana. E voglio sapere perché chi sta al Governo degli italiani opera per favorire i francesi. Lo voglio sapere. Perché le cose stanno così. E se qualcuno mi risponde, sono contenta. Allora, poiché non saremo qui solamente a denunciare il fatto, abbiamo presentato un'altra mozione, un po' più precisa, con sette punti che il collega Butti ha, diciamo, correttamente e tecnicamente raccontato in tutte le sue fasi. Poi siamo andati oltre, parliamo del piano industriale, parliamo ovviamente, però il principio che noi vogliamo che il Parlamento della Repubblica Italiana e la Camera, segnatamente la Camera dei Deputati, abbiano la possibilità di sancire di nuovo e che l'obiettivo che noi citiamo è che questa rete unica deve rimanere sotto il controllo dello Stato perché è di proprietà degli italiani. Punto. La portiamo in aula appena possibile e ciascuno metterà la faccia sulle sue decisioni. Perché i giochetti per cui ci sono i partiti che votano in un modo e poi operano per, diciamo, fare altro, sono finiti. Ognuno si deve assumere la responsabilità delle sue scelte. Se avete domande sono qui, altrimenti grazie. Buona giornata.